Fermignano per un giorno capitale della mountain bike inaugura il primo impianto omologato dal CONI e poi lancia il circuito marchigiano WISP. Pierpaolo Rivalta. Il miglior modo per ricordare Michele Scarponi, Fermignano, nell'area della nuova cittadella dello sport, gli dedica il Bike Park, un impianto per ora unico in Italia. Questo è il primo Bike Park certificato dal CONI, un Bike Park che è stato finanziato tramite un fondo europeo in diretto grazie anche all'intervento della regione Marche ed è un Bike Park che abbiamo voluto dedicare a Michele Scarponi, quindi sarà dedicato ai bambini, sarà dedicato anche ai grandi, saranno 4.500 metri quadri dedicati completamente alla mountain bike e alle discipline del fuoristrada, perché tutte le discipline qui possono essere svolte ed è possibile fare anche la scuola di mountain bike. Nella stessa giornata, sempre a Fermignano, la prima delle nove tappe marchigiane della Mountain Bike Cup organizzata dalla WISP. Ciclovie, anelli cicloturistici e impianti testimoniano la vivacità di un settore su cui la regione sta puntando con il progetto Marche Outdoor. All'inaugurazione del Bike Park, anche i genitori di Michele Scarponi, mentre l'omonima fondazione, diretta dal fratello Marco, prosegue la sua opera. Sta girando mio figlio per le scuole, veramente si conosce qualcosa, dai, noi andiamo avanti per portare un esempio, come che era magari dalla vita di Michele, però come si deve comportare uno sulla strada, discorso un po' lungo, però Marco è abbastanza avanti con la fondazione.